Allora ragazzi sono qui a Chisinau in Moldavia e per quanto riguarda il turismo dentale consiglio questa clinica punto bianco qui a Chisinau in Moldavia per il lavoro e per l'efficienza, per la qualità prezzo, tutto il personale bravissimo dall'interprete che ti danno in base a chi sei, sei italiano, sei francese, dal chirurgo, da chi ti prende l'impronto, da chi ti fa il lavoro, tutti professionisti usando materiale alto livello e quindi consiglio di farvi un preventivo senza impegno di venire qui per il turismo dentale niente io ho fatto un lavoro di circa circa 10 denti più in biante ho messo più in piante insomma un lavoro che penso in italia ci voleva ci voleva minimo il doppio e quindi niente basta prendere l'aereo qui da Roma o da Napoli o da Bologna e con 100 euro se si prendono da prima loro se volete la casa mette a disposizione un bel appartamento con soli 30 euro potete stare in due oppure prendete prendete l'hotel e niente si perché qui è pieno di cliniche dentali in Moldavia in Chiesinau però bisogna vedere dove si va dove si va saranno bravi anche gli altri però sai ci vuole fortuna a trovare quella quella un punto giusto ecco quindi niente ripeto per l'imbiandologia per mettere un semplice dente da una pulizia insomma sono bravi in tutto e multilingua quindi hanno l'interprete niente in centro quindi consiglio vivamente questa clinica e niente un abbraccio forte da Chiesinau Moldavia faccio un reportage ecco una varicella all'effetto luce però comunque potete andare su internet su facebook su tutti i social e trovate questo punto bianco a Chiesinau in Moldavia ciao ragazzi vi trovate su youtube decomera un'informazione per per quanto riguarda il turismo dentale ciao ragazzi allora ragazzi sono qui a Chiesinau in Moldavia e per quanto riguarda il turismo dentale consiglio questa clinica punto bianco qui a Chiesinau in Moldavia per il lavoro e per l'efficienza per la qualità prezzo tutto il personale bravissimo dall'interprete che ti danno in base a chi sei sei italiano sei francese dal chirurgo dal da chi ti prende l'impronta e da chi ti fa il lavoro tutti i professionisti usando materiale alto livello e quindi consiglio di farvi un preventivo senza impegno di venire qui per il turismo dentale e niente io ho fatto un lavoro di circa circa dieci denti più imbiante ho messo più imbiante insomma un lavoro che penso in Italia ci voleva ci voleva minimo il doppio quindi basta prendere l'aereo qui da Roma o da Napoli o da Bologna e con 100 euro se si prendono da prima loro se volete la casa mette a disposizione un bel appartamento con soli 30 euro potete stare in due oppure prendete l'hotel e niente si perché qui è pieno di cliniche dentali in Moldavia in Chiesinau però bisogna vedere dove si va dove si va saranno bravi anche gli altri però sai ci vuole fortuna a trovare quella quella un punto giusto ecco quindi niente ripeto per l'imbiandologia per mettere un semplice dente da una pulizia insomma sono bravi in tutto e multilingue quindi hanno gli interprete e niente in centro quindi consiglio vivamente questa clinica e niente un abbraccio forte da Chiesinau Moldavia faccio un reportage ecco una varice all'effetto luce però comunque potete andare su internet su facebook su tutti i social e trovate questo punto bianco a Chiesinau in Moldavia ciao ragazzi vi trovate su youtube Decomera un'informazione per quanto riguarda il turismo dentale ciao ragazzi